Ciao a tutti, io sono Antonio Civita, mi hanno incaricato di rompere il ghiaccio stamattina, quindi benvenuti. Iniziamo subito. Che cosa faccio e che cosa facciamo? Io sono il direttore creativo di Lifted. Lifted è una società di consulenza che unisce non solo la classica consulenza che dice come fare le cose, ma abbiamo anche un gruppo di appassionati digitali che riescono poi a eseguirle, quindi siamo abili a mettere insieme team in maniera molto veloce, team schillati che riescono a fare bene il lavoro. Quindi attraverso metodologie come lo human center design riusciamo a individuare nuove opportunità, sviluppiamo prodotti e soprattutto miglioriamo la customer experience, ci occupiamo di branding, product development, e-commerce, social media. Quindi oggi vorrei parlare di una cosa molto importante, del brand che è tutto. Il brand è quello che ci permette di avere questo, di avere lo stesso prodotto venduto uno a un prezzo e l'altro a enormemente molto di più. Oppure un caffè, caffè di Starbucks è lo stesso caffè probabilmente che possiamo trovare in altri posti, alcuni dicono peggio, alcuni dicono meglio, ma essenzialmente siamo disposti a pagare di più. Perché paghiamo di più. Perché il brand è quella cosa, quel processo di design che ha lo scopo di creare un'esperienza molto differenziante rispetto alla competizione. Se ci pensate, prendere un caffè da Starbucks è molto differenziante perché i posti sono bellissimi, l'esperienza è bellissima. È così bella che Starbucks è diventato il primo mobile payment d'America, addirittura prima di Paypal, prima di Google Pay, prima di Samsung Pay. Vedete che c'entra Starbucks con i sistemi di pagamento online? Starbucks ha disegnato non il caffè, ma ha disegnato l'esperienza di vendere il caffè, tanto che attraverso un'app io posso pagare e il numero di transazioni che avvengono in America è molto superiore a qualsiasi numero di transazioni che avvengono da mobile in questi giorni. Quindi la compagnia di caffè che fa sistemi di pagamento, impressionante. Quindi cosa vuol dire fare effettivamente branding? Vuol dire seguire un processo rigoroso di design. Allora proviamo a guardare come si è evoluto il design. Ho provato a rubare qualche slide a John Maeda che ogni anno produce un report che si chiama Tech Report, Design in Tech Report e parla di come si evolve il design nelle aziende, di come le aziende adottano il design per rimanere competitive. Allora iniziamo col parlare di classic design. Il classic design è quello che c'era in passato. Immaginate l'artigiano che produce un vaso e tutto è in carico alla sua creatività. Quindi c'è una sola maniera di fare le cose bene. Quindi l'artigiano, il designer produce un vaso, si accolle il rischio di pronurne 10.000 e poi spera di venderli. Quindi incrocia le dita e aspetta che qualcuno, che i suoi vasi vadano in distribuzione e aspetta che qualcuno li compri. È un po' rischioso ma è come ha funzionato l'industria finora. Dopodiché è arrivato il design thinking. Il design thinking immaginate lo stesso artigiano che dice, ok, invece di fare tutti questi vasi ne faccio prima 10 e poi li do ai miei amici, ricevo i feedback, quindi ne posso fare 100 che incorporano i feedback all'interno del mio prodotto. A quel punto i primi 100 saranno molto migliori e in target rispetto a quelle persone a cui li voglio vendere. Invento anche un sistema per ricevere i feedback e incorporare i feedback all'interno del mio prodotto. Quindi posso fare altri 10.000. questi 10.000 saranno la nuova versione di quel vaso che sicuramente sarà ancora migliore rispetto alla prima, ma non migliore per il design, migliore per il mercato e quindi è riuscito a mitigare il rischio della sua impresa e a fare degli oggetti che sono esattamente in target. Quindi il design thinking possiamo riassumerlo come la capacità di portare dentro il prodotto, il feedback degli utenti e di continuare a svilupparlo. Quindi la famosa tag su tutti i siti di qualche anno fa, we're always in beta. Poi è arrivato il computational design, quindi lo stesso artigiano dice, sì però questo processo mi ha fatto capire che posso ricevere i feedback, posso incorporarli all'interno del mio design, allora a quel punto posso disegnare un algoritmo che permette a tutti quanti di crearsi il proprio vaso personalizzato. Quindi invece di distribuire un vaso, invece di costruirlo, creo un processo matematico e lo distribuisco nella rete perché immagino che nel futuro tutti quanti avremo una stampante 3D forse a casa o qualcosa e quindi posso generare infiniti vasi che sono esattamente quelli di cui ho bisogno in casa. Quanti vasi ha prodotto l'artigiano? Milioni, tutti diversi, one to one, uno per ognuno di noi. Questo è fantastico e se ci pensate oggi il computational design è già una realtà. Nike nel 2017, questo è un annuncio del job board di Nike, cercava computational design, questo è il product director computational design per New York. Quindi esistono già questo tipo di lavori. Quindi qual è l'algoritmo allora se possiamo farlo anche noi per costruire il brand che può resistere al futuro? Allora come vi ho detto noi abbiamo un team di ingegneri, allora sono stato con loro, ho detto proviamo a scrivere qualche riga di codice che posso distribuire a tutti quanti. E allora ho detto ok, questo se lo mettiamo da qualche parte potrebbe essere l'algoritmo che può far funzionare il brand del futuro. Ora ve lo spiego. Allora per iniziare inizializziamo tutto quanto. Il brand del futuro è una funzione del brand che abbiamo adesso. Allora dobbiamo capire se il brand che abbiamo adesso è capace e è costruito bene. Allora il brand è ovviamente fondamentale se il nostro business dipende dalla capacità di costruire una forte relazione con i clienti se si basa sulla fiducia. Quando vado nelle aziende il processo di branding a volte è questo. Abbiamo fatto il logo, abbiamo fatto il biglietto da visita, abbiamo fatto la carta intestata, abbiamo fatto il sito, abbiamo fatto i social e poi basta. Poi ogni tanto chiamano qualcuno per rifare qualcosa perché hanno una sensazione di pancia di doversi aggiornare di cose che non vanno più bene. Spesso però alcune aziende sono più evolute e dicono no, ok noi abbiamo iniziato un processo di branding e questo è ciò che potrei aspettarmi. Quindi abbiamo definito il branding, l'abbiamo posizionato correttamente, poi siamo entrati in una fase in cui abbiamo deciso come questo brand si deve esprimere. Solo allora abbiamo iniziato a comunicarlo e poi forse a misurarlo. Qual è il problema in questo processo lineare? Che forse già nei nostri tempi quando siamo arrivati ad esprimerlo è già troppo tardi. Allora il processo di branding deve essere una cosa iterativa, deve iniziare nel momento in cui decidiamo il prima possibile e iniziare a capire che questo processo non finirà più perché lo definisco, lo posiziono ma il sistema economico si evolve, i valori delle persone si evolvono e quindi devo dotarmi di strumenti, di un processo di design che mi permette di aggiornare costantemente le mie definizioni, il mio posizionamento, la mia espressione. Il fatto è che non possiamo creare i brand, i brand non si creano, possiamo solo avere la capacità di influenzarli, quindi dobbiamo anche come azienda, anche come possessori del brand stesso non possiamo crearli. Possiamo trovare un sistema però delle linee guida, dei processi di design che ci permettono, che permettono alle persone di percepire le cose giuste, alle persone di influenzare la percezione del brand stesso, è tutto guidato dall'azienda. Quindi partiamo dalla definizione, le cose sembra complicato ma sono molto basiche. Provate, se voi avete un brand, a immaginare quali sono i valori fondanti del vostro brand, se li avete mai scritti, non dico se li avete mai immaginati perché forse li sentite vostri, ma se li avete mai scritti su carta. Allora per aiutarvi ho provato a scrivere quelli di Facebook. E quindi Facebook, focus on impact, move fast, be bold, be open, build social value. Vedete che qui si capisce bene che cosa, quali sono i valori fondanti che guidano l'intera azienda. La stessa cosa ho provato a farlo per Google, quindi focus on the user and all else will follow. Fantastico, focalizzarvi sull'utente e tutto quanto segue. Un'altra che mi piace molto è democracy on the web works, che è detto da loro un po'. There's always more information out there, build social value. Poi chiedetevi quali sono i brand drivers, ora che ho deciso cosa devo dire e quali sono i miei valori, in che modo lo devo dire. Potrei dire le stesse cose e sembrare brand diversi, quindi proviamo a dare degli aggettivi, lo dico in maniera informale, lo dico in maniera seria, lo dico in maniera divertente. Che tipo di linguaggio devo usare? I brand drivers servono appunto per trasportare i miei valori verso i clienti, quindi devo adottare diciamo una maniera di raccontare appunto i miei valori. Poi decido cosa brandizzare, perché brandizzare non è come apporre il logo dappertutto, quindi una volta che ho visto il mio simbolo ovunque dico ok ho finito. Brandizzare vuol dire brandizzare un prodotto, brandizzare una tecnologia, brandizzare un servizio, brandizzare un'intera azienda. Quindi chiedetevi quale pezzettino in quel momento state brandizzando del vostro intero processo che porta valore in quell'istante. E quindi quando avrete forse nel vostro processo tantissimi pezzettini brandizzati, chiedetevi qual è l'architettura di questi brand, come sono in relazione uno con l'altro. Se siete una house of brand, se siete una branded house e quali vantaggi porta una scelta rispetto all'altra. Un consiglio se lo provate a fare, cercate di essere veloci e facili. Il vostro business deve essere veloce e facile. Google ricerche. Cosa fa l'azienda in una frase? Ok se sono Google dico, permetto di trovare le cose online, sempre. Forse oggi non più online, permetto di trovare le cose, oppure permetto di ottenere risposte. Quali sono i valori? Utilizzate tre parole massimo, nome del brand una parola. Poi iniziamo a parlare di posizionamento. Posizionamento vuol dire segmentare, segmentare tanto e comprendere i valori delle persone. Segmentare perché il nostro prodotto, il nostro brand può risuonare in diverse persone, ma lo fa in maniera diversa. Quindi devo capire ogni gruppo di persone come la pensa. Allora vi invito non solo a leggere i manuali di marketing che parlano delle varie generazioni, ma soprattutto a trovare le maniere per comprendere meglio le persone. Allora vi suggerisco un libro. Questo libro è stato suggerito ovviamente da, prima di me, era nel book club di Zuckerberg o piuttosto che di Bill Gates. Era il libro che loro hanno identificato come libro dell'anno. E parla di come in realtà l'uomo ormai ha già superato le grandi sfide. Oggi è più facile morire per una buffata al McDonald's piuttosto che essere ammazzati, piuttosto che essere di morire di Ebola o di una malattia. E quindi l'uomo è diventato quasi immortale. Nel momento in cui l'uomo è diventato immortale, quali sono le sfide che gli si aprono. Allora forse diventare un dio è la sua nuova sfida. L'età anagrafica delle persone si sta anche allungando, per cui ci sono per esempio due demografie emergenti che stanno emergendo in maniera molto, molto forte. Perché a volte ci concentriamo solo sui millennials, perché è una parola che fa buzzword e quindi tutti parlano di questo. In realtà con l'allungamento della vita c'è la nuova generazione E, quindi elderly, quelli oltre i 50 anni che hanno, usano l'iPad molto più di noi. Perché è più grande, perché ci vedono meglio, perché è più semplice da usare. E poi c'è la generazione Alfa, quelli nati nel 2010. Saranno circa 2 miliardi di persone tra 10 anni e loro avranno un impatto economico pazzesco. Avranno forse la prima, sono la prima generazione veramente nativa digitale. Ieri ho sentito tanti workshop, soprattutto uno molto bello dove diceva che la nostra, la capacità dei nostri neuroni di modificarsi dipende dagli strumenti che abbiamo. Come è successo nella pre-storia dove gli utensili hanno guidato la nostra capacità di plasmare le sinapsi. Immaginate cosa succede a questi ragazzi, che frizione hanno verso, o meglio, che frizione nulla avranno verso la tecnologia. Come la percepiranno? Perché i loro strumenti non saranno più utensili, ma saranno tablet, saranno occhiali, saranno algoritmi, saranno ologrammi. E quindi questo avrà un impatto gigantesco che dobbiamo iniziare a comprendere subito per capire come fare marketing. Questo è un articolo del New York Times che dice che la Silicon Valley sta andando verso la direzione della vita, per sempre, dell'immortalità. Quindi è vero il big data, è vero le cryptocurrencies, è vero che fare start-up, ma immaginate che Google ha la sua start-up che si chiama Calico o Calico, che ha come missione fondante quella di capire come far diventare immortali gli uomini. Lavorano sul DNA, lavorano su tantissime altre cose. Un altro libro che vi consiglio è Retrotopia, o Retrotopia, di Bauman. E dice che è molto interessante anche questo perché vi fa capire come con l'allungamento dell'età in realtà uno dei valori fantastici, fantastici o meglio forse spaventevoli dovrei dire, che è il senso di nostalgia. Il senso di nostalgia perché soprattutto la generazione alfa non ha mai conosciuto e forse mai conoscerà se non dagli strumenti digitali quando si stava peggio e quindi vedranno nel passato forse qualcosa a cui avvicinarsi. Questo modo di comprendere le cose vi fa capire tante cose che stanno avendo adesso nella moda, per esempio il ritorno di questa moda che molti definiscono brutta, i filtri di Instagram che probabilmente peggiorano la qualità delle immagini delle nostre fotocamere. Questa sensazione che il futuro non è più un'opportunità come era per i baby boomers ma è qualcosa di pauroso e quindi potrei perdere il lavoro, potrebbe succedermi qualcosa, sono in un mondo dove succedono così tante cose che alla fine sono solo e questo ha un impatto grandioso sulla politica, sui nazionalismi, sulla possibilità di investire per cui il futuro si è trasformato come paura e non più come opportunità. Tutte queste cose servono poi per disegnare le nostre personas che andiamo a tracciare e quindi hanno un impatto ovviamente su come dobbiamo esprimere il nostro brand. Nel 1900 c'è l'immagine coordinata, Behrens con l'IG crea il primo strumento per codificare, dice, tutto il visibile. Ecco io non credo che nel 2018 dobbiamo ancora disegnare il logo, la carta stampata, il packaging, anche quello ce n'è bisogno perché trasferisce tutto quanto. Nel 2018 proviamo a iniziare a capire, a parlare di design system. Design system perché? Perché il marketing e il branding devono iniziare a farlo gli ingegneri. Quello che vedete è Google Material, forse uno dei più grandi design system disponibili adesso è il design system su cui Google basa il design di tutti i prodotti. Una serie di tantissimi componenti codificati che hanno una corrispondenza uno a uno tra grafica e codice per cui è molto semplice per un team distribuito di designer creare delle esperienze che sono branded. Se voglio disegnare un'app mi prendo i miei pezzettini, questi pezzettini sono già disegnati secondo le linee guida del mio brand, sono già testati su tutti i device, ho una corrispondenza nel mio file di design, ho la corrispondenza nel mio file di codice, è velocissimo mettere insieme le cose e sperimentare proprio perché il mio sistema di branding deve essere veloce e agile. Ma non è solo Google, per esempio Audi ha il suo brand system, un brand system fatto di interfacce per cui è tutto coordinato dal design dei pannelli di controllo della macchina addirittura alla musica. Audi rilascia dei pezzettini, il tono degli strumenti, in questa maniera qualsiasi agenzia nel mondo può creare uno spot pubblicitario che ha le stesse tonalità anche cambiando il ritmo, anche cambiando tipo di musica, però suona sempre come Audi e quindi non è fatto solo di componenti visive ma anche componenti sonore. Naturalmente arriveremo anche a design kit che hanno componenti anche olfattive. Lonely Planet ha un buonissimo design kit fatto di tantissime componenti perché deve gestire tantissime guide, deve gestire un sistema di comunicazione che scala velocemente. BBC ha un sistema di design system molto bello che si chiama GEL. Non sapevo che anche l'Italia ha un design system per la pubblica amministrazione che nessuno usa. Quindi immaginate quanto sarebbe bello il sito del comune se seguissimo le linee guida, quanto sarebbe facile pagare, quanto migliorerebbe la vita delle persone se l'esperienza che ci dà la pubblica amministrazione fosse quantomeno coordinata. Ma questa poi è un'altra storia. quindi nei team che hanno fatto prodotti sta succedendo questo, che questo è il rapporto tra designer e sviluppatori. Quindi le grandi aziende, guardate IBM, aveva un rapporto di un designer ogni 72 sviluppatori, oggi ha un designer ogni 8 sviluppatori. Quindi le aziende si stanno trasformando da machine centrede a design centrede e quindi il design, il branding, la capacità di innovare sul prodotto passa dagli ingegneri, passa dai designer che devono sempre di più comunicare per rimanere competitivi. Il design system è fantastico anche perché probabilmente con l'intelligenza artificiale non ci sarà più bisogno di programmare qualcosa. Ma questo è un esperimento di Airbnb dove un gruppo di disegnatori fa delle illustrazioni e l'intelligenza artificiale fa da sola l'applicazione. Credo che può partire un video se è possibile dove si vede come i designer disegnano il wireframe, il wireframe è un riconoscimento ottico, capisce quale pezzo di codice è stato disegnato e in automatico. Immaginate quanto sarà facile creare per i brand le proprie esperienze, se ho codificato tutti quei pezzettini e la macchina dice ah ok, disegnato questo, ecco il codice e funziona tutto. Quindi passiamo dal branding dall'immagine coordinata a un sistema di design che non fa altro che fare, che agevolarsi il decision making quando vogliamo definire il nostro brand. Qualche tempo fa OnoType, questa type foundry che disegnano font, ha scritto questo tweet che è stato condiviso circa 6.000 volte, 9.000, ora non ci leggo. Che cosa diceva? Ha innescato una conversazione, diceva tutti quanti cadono sulla linea, quindi Google, vedete come sono cambiati i loghi di Google, Airbnb, Spotify, Pinterest, tutti utilizzano lo stesso software, perché si stanno tutti uniformando, stanno diventando tutti trasparenti. Questo ha innescato una conversazione a livello globale sull'evoluzione dei brand. I brand si stanno sempre più sovrapponendo alle esperienze, quindi non mi interessa come è disegnato il logo di Spotify. L'esperienza è ascoltare la musica e il mio brand è così rilevante che ascoltare la musica vuol dire Spotify, che chiedere delle informazioni vuol dire Google, che andare in vacanza vuol dire Airbnb e quindi non è interessante avere un logo visivamente, il design, graphic design sta diventando una commodity e sempre di più l'esperienza sta diventando ciò che è differenziante. Questo è l'home page di quale brand? Questa è l'home page di Walmart, noi forse non ce l'abbiamo in Europa, però vedete che è un home page dove ci sono 350 milioni di visitatori, uno degli e-commerce competitor di Amazon e non c'ha logo, perché sono focalizzati sul dare la migliore esperienza di scoprire quali sono i prodotti migliori, di raccontare le storie, di fare appunto discovery delle novità. Definito, espresso il brand dobbiamo iniziarlo a comunicarlo, la parte più difficile è comunicarlo internamente ai nostri dipendenti, perché è da lì che parte tutto e facciamo una grande fatica a capire come dobbiamo comunicarlo fuori e invece tutto parte da dentro e poi logicamente andiamo nella comunicazione esterna. Questo che vedete è il piccolo libro che viene dato a ogni dipendente di Facebook per descrivere che cosa andrà a fare e dentro c'è scritto non che cosa fa Facebook inizialmente, ma soprattutto ti dà la responsabilità, se sei un ingegnere ti dice guarda che te hai dentro la tua tastiera, dentro il tuo computer, hai la responsabilità di un milione di persone su Facebook. È un libricino bellissimo che dà anche delle direttive, stimola, comunica molto bene il brand fuori e dice se non creiamo quello che ucciderà Facebook qualcun altro lo farà, quindi è meglio che forse lo facciamo noi. Quando tornate in azienda, provate a chiedervi, ma allora in azienda chi è il brand champion? Chi è responsabile di mantenere unificata l'esperienza? Perché a volte poi partono le mail scritte male, partono le offerte tutte diverse da tutti i commerciali e quindi effettivamente forse abbiamo fallito a disegnare il nostro brand internamente, magari esternamente sembra tutto perfetto. Quindi identificato una persona. Dopodiché iniziamo a misurarla, e come si misura? C'è la brand awareness e quindi uno dei piccoli valori che serve per capire se il nostro brand si sta affermando è che banalmente le nostre ricerche brand del nostro sito, attraverso Google Analytics, comprendiamo che stanno crescendo. Oppure iniziamo ad utilizzare il Net Promoter Score. Quanti brand mi hanno mandato una mail negli ultimi giorni, che non sia quella del DPR, che vi dice quanto raccomanderesti da 0 a 10 il prodotto a un amico, a un parente. Questo è un valore importante perché la stessa domanda è una domanda standard fatta in tutto il mondo, è una tecnologia, e quindi attraverso un algoritmo che calcola il numero, cioè il valore della risposta data, permette di comparare il Net Promoter Score che hanno le aziende. Quindi poi sono pubblicate e vi permette anche a voi di confrontarvi su capire quanto è efficace il vostro brand fuori. E poi ripetere questo progetto all'inizio, perché forse quando siete arrivati in fondo qualcosa è cambiato, nuove generazioni, nuove tecnologie sulle uscite, e quindi bisogna fare tutto. Allora riprendiamo l'equazione. Ammesso che abbiamo il nostro brand, quindi il mio future brand è uguale al mio brand, e come lo devo ampliare? Lo devo moltiplicare per prodotti globali che superano i confini. I vostri prodotti già superano i confini. E quindi è inutile immaginare di poter fare il nostro business e resisterlo in maniera local, ma abbiamo già tutte le tecnologie per farle global. Che sia un prodotto fisico, la distribuzione oggi è fantasticamente semplificata, ma soprattutto se abbiamo un servizio, possiamo informatizzarlo e rendere disponibile in cloud. E poi ci sono i dati comportamentali, che oggi devono essere una componente importantissima del nostro brand stesso, perché permettono di creare le personalizzazioni che ci servono. Il computational design ha creato questo paradigma, perché tutti noi ora ci aspettiamo che qualsiasi cosa nel telefonino è fatta proprio per noi. Voi aprite il telefonino e sembra che c'è la musica giusta, che sembra che c'è la risposta che cercavamo. Perché? Perché il sistema ha già macinato tutti quei dati e ha costruito l'esperienza proprio per un utente. Ogni applicazione è diversa una dall'altra. Oggi abbiamo la capacità per farlo, quindi oggi è impressionante, siamo già qui, i nostri computer hanno la capacità di un topo, la capacità della stessa capacità computazionale di un topo. Tra poco supereremo quella del cervello umano. Questi prodotti hanno la capacità, grazie a questa capacità di comprendere l'utilizzo, di come gli utenti li utilizzano, la capacità di migliorarsi da soli. Google ha circa un trilione di ricerche l'anno, e questo permette che ogni ricerca che facciamo lo rende 0,0000003 volte migliore di quanto era prima. E quindi è un prodotto che sfida le leggi che conosciamo adesso, non è un prodotto che invecchia come un buon vino, è un prodotto che continua a ringiovanirsi ogni ricerca che facciamo. Netflix migliora col tempo, perché questo è l'algoritmo che permette di scegliere quale delle cover vediamo per ogni film su Netflix. E quindi siamo tutti vittima di A-B test, ogni volta che clicchiamo succede qualcosa, veniamo super profilati, e il sistema la prossima volta sa che per noi, per farci vedere quel film è necessario mostrarci un'immagine che ci piace. Lo stesso Spotify è un progetto bellissimo computazionale, dove c'è una griglia nera dei quadri, però voi avete l'impressione che ogni giorno c'è un DJ personale che ha scelto la musica proprio del vostro gusto dentro. Il prodotto è uguale, distribuito globalmente, la musica e i contenuti sono diversi e personalizzati per volo. Il suo brand migliora man mano che voi ascoltate la musica. Cliccate like, la sua radio si aggiorna perché comprende i vostri gusti. Nest, per esempio, è un altro prodotto, è un termostato che in base ai momenti della giornata in cui aumentate e abbassate la temperatura, capisce che siete in casa, dopo un po' imparerà quali sono le vostre abitudini e quindi non dovete più toccarlo, vi farà trovare la casa e la temperatura giusta. 40.000 sono le parole che conosce una persona, un adulto medio, un milione sono le parole che può usare contemporaneamente l'AI per codificare i messaggi. Quindi non avete più scuse di non tentare l'internazionalizzazione o di non capire, di non poter immaginare come scalare la scrittura delle vostre newsletter, la scrittura dei prodotti, della descrizione dei prodotti del vostro sito, piuttosto che tutte quelle componenti che oggi servono, che sono human intensive, quindi di scrivere grandi quantità di contenuti. Intelligenza artificiale permette Amazon di rimanere competitivo. Amazon ogni giorno cambia i prodotti 2,5 milioni di volte. Confrontato con Walmart e Best Buy non è niente. Quindi questo permette di darvi l'esperienza di dire ma wow è sempre il meno costoso. Che cosa succede allora? Qual è la differenza tra i brand che vengono definiti algoritmici e i brand del passato? I brand del passato, i nostri brand purtroppo, creano prodotti che si deteriorano nel valore. Compriamo una macchina, appena siamo usciti dal concessionario, vai alla metà. Compriamo qualsiasi cosa, si svaluta immediatamente. Quindi i prodotti mediocri, più il brand associato, più il mass media hanno permesso nel tempo di creare alti margini. Questa era l'economia dopo il boom economico. I brand algoritmici cosa hanno? Distribuzione globale immediata, dati, personalizzazione, crescita esponenziale. Dopodiché, altra parte dell'equazione. Che cosa dobbiamo mettere insieme? Dobbiamo mettere insieme gli amici, quindi la capacità di un brand di comportarsi come se fosse un amico. E questo già lo fanno perché aprite Instagram e postano delle foto bellissime. I brand sono impegnati a fare una grandissima quantità di contenuti e sono direttamente in competizione con i vostri amici per creare le immagini più belle. E poi bisogna avere un comportamento responsabile all'interno della comunità, far percepire che stiamo facendo del bene per il mondo. Questo cambia tanto il rapporto con cui ci relazioniamo addirittura a Google. Quindi qual è il mio brand preferito? Qualsiasi brand mi chiede Google perché cambia il modo, questo brand mi dice Google perché cambia il modo in cui facciamo le query. Quindi non chiedo più in maniera tecnica a Google qual è il bank account piuttosto che open bank account online, ma gli chiedo what do I need to open bank account? What shampoo should I use? Car brands diventa which car should I buy? Quindi chiedo consigli a intelligenze artificiali perché capisco che già sa lui che cosa mi piace, perché ci sono stato tanto tempo insieme. Quindi Google mi risponde come un amico. Ieri abbiamo visto Meyer che ci ha fatto vedere il marketing con l'intelligenza artificiale di come le pubblicità interagiscono oggi già con Google. Everlane è un esempio bellissimo di fare le cose bene per il mondo e quindi ti dice quando compri un paio di jeans sappi che questi jeans sono fatti nella fabbrica di jeans più pulita al mondo. Addirittura non asciughiamo nemmeno i jeans se guardate il sito ci sono i jeans che volano nella fabbrica perché li asciugano con l'aria. Come si calcola allora questo rapporto di intimità? MBBL che è una società di consulenza ogni anno stende un report che si chiama Intimacy Report e quindi ha una serie di parametri che permettono di capire quanto i brand penetrano nella vita delle persone e diventano intimi in una maniera veramente connessa con la vita di tutti i giorni e questo ci serve anche per capire come si relazionano gli altri brand rispetto a noi. Quello di prima era Amazon questo è BMW e vi fa capire come addirittura ci sono dei valori can't live without it come è aumentato dal 2007 al 2008 un aumento del 95% di non posso vivere senza quel brand non posso vivere senza quei contenuti senza quell'esperienza così YouTube fa capire quanto hanno il daily usage quindi l'utilizzo quotidiano delle varie demografie come cambia la generazione Z utilizza YouTube l'80% del proprio tempo quindi l'ultimo pezzo dell'equazione qual è? L'accelerazione quindi brand che accelerano la carriera per attirare talenti è inutile portare persone e dargli pochissimi stimoli un brand per crescere ha bisogno di talenti quindi l'accelerazione la capacità di avere un management competente che permette di delegare permette di creare innovazione quindi di accelerare la carriera dei talenti e di creare un terreno fertile per le persone che contribuiscono è la componente fondamentale per i brand per crescere e rimanere competitivi quindi proviamo a ricompilare il codice a fare un veloce recap la I deve diventare un nuovo modello di business e gli ingegneri devono avere la capacità di intervenire subito sul brand i vostri prodotti sono già globali i processi cercate di mettere insieme processi che migliorano il vostro brand del tempo che magari automatizzano questo miglioramento i vostri prodotti si ringiovaniscono e non perdono valore nel momento in cui li consegno al cliente sviluppare l'empatia e l'intimità con i clienti attraverso strategie di comunicazione di contenuti di relazione appunto con le persone creare un impatto positivo con la comunità e creare un sistema che acceleri la vita delle persone per la propria soddisfazione finito spero che questo programma funzioni non credo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti